Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Vristaddiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Lo starete vedendo, anzi, o meglio dire ascoltando. Questo è un nuovo format, un format diverso dal solito. È il primo podcast puramente audio di questo canale e sono felicissimo di cominciare questa nuova serie che ho annunciato, ho avuto modo di annunciare sia nelle live che su Instagram, con l'arrivo per la prima volta, o meglio per la seconda volta qua sul canale, di un ospite molto molto importante. Importante, non esageriamo insomma. Importante per la nostra community, questo senza ombra di dubbio. E lo lascio presentare da sé. Beh, ciao a tutti, sono Fanter, mi conoscete un po' su Instagram perché gestisco la paginetta Tre Contatori che di fatto è la mia pagina dove metto i miei orologi o comunque le foto degli orologi che mi capitano per le mani. E niente, poi gli altri ragazzi mi conoscono per il gruppo Telegram, ci siamo visti qualche volta a qualche raduno. È un personaggio ormai integrante tra i più caldi e i più affezionati della community. E lo avete visto e sentito per la prima volta l'anno scorso... Quando abbiamo fatto la live... La live post-Buzzle World. Esatto, abbiamo commentato le novità di Basilea. Sì, quella volta lì ci siamo praticamente trovati, tra virgolette, in un video insieme, ma lui fisicamente non era qui con me. Come potete invece sentire dalla qualità dell'audio, siamo nello stesso luogo, è venuto a trovarmi. E ragazzi, sono nella mitica cameretta. È nella cameretta e c'è odore di bande verdi dappertutto. Sì, le storiche bande verdi. Chi di voi ha colto la citazione me lo faccia sapere. E il podcast di oggi, lo avrete visto dal titolo dopo questa breve presentazione, è un po'... Diciamo un gioco, lo possiamo prendere con totale leggerezza. E sarà praticamente un mio aprire la mia collezione con anche nuovi pezzi. Quindi questo è un po' un anticipo rispetto al video che arriverà di tutta la collezione. Ma questo è il mio aprire la collezione nei suoi confronti. E commentarli insieme, uno dopo l'altro, tutti i miei pezzi. Anche perché c'è un sacco di roba che non ho mai neanche visto fisicamente dal vivo. Sono felicissimo di farteli scoprire. E direi che non dobbiamo perdere tempo e possiamo partire direttamente da... Parti da quello che vuoi tu. No, io sono curioso di partire da questo. Sei curioso di partire da... Perché ne stavi parlando prima. Da l'è il primero. Ok. Val. Ragazzi, il massimo del montaggio che potrò inserire in questo video sarà... Lo starete vedendo. Inserire foto statiche per ogni orologio. Perché questo è un podcast, chiaramente. Non è un video montato con cura. La cura sarà, tra virgolette, nei contenuti diversi. Ma lo potete vedere anche voi. C'è una foto ferma e sarà così per tutti gli orologi. Cioè, bellissimo sto orologio. Bello, vero? Comunque, cioè, questo orologio è la dimostrazione del fatto che Zenith è sempre stata una casa che ha fatto orologi di qualità. Di qualità. E la qualità si trova su tutte le fasce di prezzo. Insomma, il rapporto qualità-prezzo di Zenith per un orologio di questo tipo, secondo me, è ineguagliato. Cioè, io ho deciso di comprarlo perché desideravo un El Primero. Ma diciamo che desideravo altrettanto un orologio molto complicato. E il fatto che esista un orologio del genere e il fatto che costi attualmente meno di 4.000 euro ancora si riescono a trovare. Tutte queste complicazioni, automatico, animato da un calibro così famoso e importante come El Primero, è famoso per le sue doti di precisione, di robustezza, eccetera. Sì, ormai è diventata storia questa. Cioè, anche perché, se ci pensi, è stato sviluppato per sei anni e uno non si meraviglia che sia durato per tutti questi anni e che sia arrivato fino a... a lavorare adesso con tutte le modifiche che ha avuto praticamente nel breve periodo. Credo che sia uno dei cronografi più longevi, se non il più longevo. Sì, probabilmente, probabilmente sì. Come a livello di calibro... È tuttora in produzione. Anche il 77-50 che è arrivato 5, 6, 10 anni dopo, credo, El Primero. Quando è che è arrivato? A metà anni? A metà anni 70. I primi anni 70. I primi anni 70. Beh, però sta di fatto che lui è il primo. Lui è il primo, lui è il primo automatico, almeno il primo automatico progettato, diciamo così. Che poi, ecco, anche lì, sono due calibri, se fai il paragone col 77-50, molto vecchi, però si basano su due approcci diversi, perché questo è straraffinato, perché hai l'alta frequenza, la ruota a colonne, l'innesso laterale, invece... L'altro è un bulo. Cioè, esatto, sì, è un approccio opposto, cioè molto semplice, robusto, fatto per essere montato anche su orologi di fascia bassa, quindi... però appunto sono arrivati entrambi. Questo è molto bello, il fatto che sia lavoratissima la cassa e il vetro pure. Sì, il vetro è un zaffiro bombato. E un orologio degli anni 90 con zaffiro bombato non era intanto una cosa così comune come è diventata adesso. Io sapevo infatti che loro lavoravano lo zaffiro partendo appunto dal pieno e smussando, è una lavorazione complicatissima. È una lavorazione assurda. Ma poi, cioè, guarda il quadrante, cioè io quando guardo questo orologio ogni volta realizzo che è il mio orologio preferito, perché di fatto è super completo, complicatissimo. È un orologio che non uso molto, non mi vedete spesso. È un orologio da occasione. È un orologio da occasione, mi piacerebbe effettivamente usarlo un po' di più, ma con tutte queste complicazioni, un cronografo, eccetera, 36.000, non è un everyday watch, ragazzi. È un orologio che merita di essere usato in particolari occasioni. Te lo lascio ammirare un attimino. Sì, no, perché stavo vedendo che io ne ho recentemente preso uno e fa quasi strano vedere che un orologio che è comprato nel 2019 lo giri ed è lo stesso movimento. Praticamente, sì. Credo che le poche differenze siano nello scappamento nel materiale di quest'ultimo. Sì, poi ho visto che hanno fatto le modifiche anche al materiale della ruota a colonne, però insomma, sicuramente vedo già un martello diverso, che è questo qua. Appena appena diverso. Che è un fatto con una forza diversa. Sì, il progetto è stato leggermente... Questo qui ricorda che comunque è il... Questo è il... È il primero, non è il più... 410. Esatto, è 410, non è il 400. Sì, è quello con la... Con il calendario completo, con le fasi lunari. Ma ciò tanto a sistemare la data. Allora, sistemare... Allora, intanto lo sai benissimo che solo è il primero, settare l'ora è sul primo scatto della colonna. È al contrario. E sta roba all'inizio ti fa strano. Comunque, il problema, tra virgolette, è settare la luna, ma non è importante settare la luna. Di fatto ci metto 5 minuti a settarlo. Ma come fai a sapere qual è la fase lunare giusta? Cioè, nel senso... Credo ci siano... Basta andare forse su... Perché non ce l'ho mai avuto un orologio col calendario? Non ho mai dovuto settare un calendario. Ma io... Ma praticamente setti prima i giorni della settimana e poi vai in automatico. Allora, il mese mi sembra... Di fatto ogni volta che lo metto è come un... È un rimparare la posizione dei pulsantini per riselezionare tutto. Perché capita, dicevo, spesso magari di indossarlo senza magari mettere il mese. Perché lo uso per una sera. E anche lì il pensiero di dover continuamente con l'ago, con la cruna, andare lì a pulsare... A piggiare il pulsantino, a mettere il mese... Mi sembra di logorarlo inutilmente se lo indosso una sera. Lo metto in ora e me lo godo. Comunque è un orologio che prima o poi, sono sicuro, goderò di più. Devo dire che io ho visto da vicino, perché ho tenuto in mano la versione in oro. Meraviglia. Bellissima, però è molto più impegnativa. Sì. Cioè, questo è già un orologio che vedi... È un orologio, tra virgolette, elegante. Tende ad essere un orologio elegante. Quello d'oro è abbastanza... Anche perché l'oro giallo esce abbastanza... È abbastanza vistoso. E cambia rispetto a questo modello qua, che è un pochino più lavorato il movimento. Hanno fatto delle finiture diverse. Ok. Va bene. È bello anche questo cinturino blu. Sì, sta bene con la luna. Allora, dato che ci siamo dilungati un sacco, siamo già tipo, boh, nove minuti solo per un orologio. No, sì, vabbè, allora dobbiamo andare veloci. Gli altri andiamo, diciamo, un po' più veloci, ma questo qui era importante, c'erano un sacco di cose da dire. Andiamo avanti. Vado io, prendo a caso. Oh, a caso. Questo che ero, curioso di vederlo, non so qual è il nome ufficiale. Allora, questo è... In realtà il nome ce l'ha ed è il gruppo 1881 Type 1 by Merkur. Type 1 B, perché di fatto ci sono due versioni, bianco e nero, ed è il, tra virgolette, alpinista. Sì, sì. Ti ricordi, vero? Sì, no, allora, quel che mi ricordo io è che è una specie di nosi edizione, un homage al primo secolo alpinista. Al primo secolo alpinista. Al lauree l'alpinista. Sì, questo qui è stato realizzato dal gruppo 1881 by Merkur, che è una casa cinese che fa orologi veramente bene a livello costruttivo. È la prima volta che prendo in meno un Merkur. Sì, ora, visto che ce n'è anche un altro... Ce n'è anche un altro, dopo lo guardiamo subito, direi. Comunque, è un bello orologino. Ci tengo proprio per il fatto che ce ne sono pochissimi. Dovrebbero essere 50 pezzi per un colore, 50 pezzi per un altro colore. E è un po' un simbolo del fatto che una piccola community di appassionati di Seiko si è riuscita a creare di fatto un orologio, ok? Direi appoggiandosi all'Oriente, che ormai dà delle possibilità molto diverse da quelle che sono quelle in Svizzera. Però è comunque qualcosa di unico, un orologio che nessun altro ha al mondo, a parte io e gli altri appassionati di questo gruppo. Devo dire che bianco è bello. Pensavo che perdesse qualcosa rispetto a quello nero. In effetti sai che mi sono quasi pentito di non averli presi entrambi. Però vabbè. Comunque è molto lavorata la cassa. La cassa è molto bella. Non è una cassa stock tutta lucida, brutta. C'è una metta separata. Sì, sì, sì. Ma il vetro questo cos'è? Uno zaffiro bombato. Accidenti, zaffiro bombato su questa fascia di prezzo. Sì, un orologio da 180 euro. Ne ha 35,6 con fondello lavorato. In origine doveva avere la corona vite secondo il progetto, ma il produttore con i prezzi non ce l'ha fatta e con il tipo di cassa non ce l'ha fatta perché era troppo sottile per metterci un filetto. Avrebbe dovuto stravolgere l'estetica. Comunque... E poi so che hanno fatto per rientrare nei costi con il budget hanno rifatto un modello marcato Mercure. Hanno rifatto il Mercure Conqueror, praticamente. Sì, di fatto l'abbiamo scoperto a metà progetto che Mercure avrebbe riutilizzato lo stesso progetto per di fatto rientrare dei costi per la creazione di questo quadrante cambiandone il logo e vendendone altre centinaia. Bellino anche il logo. Il logo, questo qui, riprende la S di alcuni vecchi seico. E poi è bello anche... Tutto sommato è bella la scritta così. Quella in origine doveva essere alpinista in corsivo, però il logo... Cioè il font che doveva essere molto simile a quello dell'originale alpinist avrebbe potuto... Oltre alla scritta ovviamente alpinista, avrebbe potuto creare problemi di copyright. Alpinista, alpinist con lo stesso font. Ci avrebbero probabilmente rotto le scatole e per evitare qualsiasi tipo di problema Mercure ha detto No ragazzi, cambiate il logo. Molto bello. Molto bello e passiamo al FOD che è sempre... A questo punto passiamo al FOD. La stessa fabbrica di fatto. Ok. Che questo tra l'altro è la versione militare. Questa è la versione nera militare e c'era anche la versione panda inverso del FOD che è stato prodotto in poche centinaia per poi cambiare nome e diventare Pierre Poulin, quello che ho appena recensito. Piero Paolino. Piero Paolino, esattamente. E questa è la prima volta che credo che tu maneggi anche un... Sì, è la prima volta che vedo un movimento del genere. Cioè che anche qui che prendo in mano un orologio con un movimento... Farò partire. Sì, sì, è partito. No, il crono. Il crono, dici. È molto affascinante, secondo me. Voi abbiamo spiegato tutte le motivazioni che mi hanno portato ad apprezzare comunque questo genere di orologino perché per l'appassionato che ha pochi soldi, il ragazzo giovane che vuole un cronografo meccanico nuovo, questa è un'opzione valida. Lo si scopre una volta che ce l'hai in mano e ne percepisci la qualità costruttiva. E senti il movimento, vedi quanto è preciso, vedi come si comporta. Beh, sicuramente avere un cronografo a carica manuale per una fascia di prezzo così... Ti fomenta la passione. Perché già il cronografo a carica manuale è quasi una rarità al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi quasi... Cioè esiste, vabbè, c'è l'iconicissimo... Io ho provato a fare una cernita dei produttori che hanno ancora a catalogo un cronografo a carica manuale, ma sono ormai pochissimi. Esatto. Chiaramente quello più abbordabile tra gli svizzeri è il Moonwatch con il calibro 1.861. Poi devi passare a brand di Holy Trinity che hanno altri generi di calibri. E non è un... Cioè, nel senso, c'è un motivo perché comunque è una bellissima architettura anche da vedere, da guardare. In effetti, se tu ci pensi, ciò che si è perso in Svizzera con quello che era questo calibro in origine, che era il Venus 175, di fatto non esiste più il Venus 175, non esiste più il Landeron, non esiste più il Valjoux entry level. Esistono i russi, esistono i cinesi al momento, nella fascia entry level. Per avere l'in Svizzera il crono devi andare più in alto. Allora... Il logo ti fa schifo. No, devo dire che, cioè, rispetto a come si è evoluto, preferivo anch'io il... Il logo vecchio. Il vecchio logo. Devo dire che tutto sommato non è così fastidioso su questa versione qua militare, diciamo. Perché questo, io ho visto, è tipo praticamente la copia di un quadrante che ha fatto la Minerva per un cronografo di epoca militare. E devo dire che, cioè, tutto sommato non... Cioè, esteticamente è bello. Poi ti sto vedendo che anche la cassa è particolare. Questa è la classica cassa del... Cassa Sigul 1963, soltanto più lavorata, praticamente. Ora non mi è chiaro se le casse alla Sigul gliele faccia Merkur. Ma questo è Plexi, invece? No, sì, questo è Plexi. Indurito con trattamento superficiale per, in teoria, evitare il graf. Comunque, allora, questo, cioè, questo orologio mi fa venire in mente, diciamo, ok, mi fa venire in mente, diciamo, un tema che è quello degli orologi... Che una volta gli orologi erano molto più economici. Era molto più facile potersi comprare degli orologi. Erano questo, sì, 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 sì. Comunque, bellino. Ora, sul discorso del movimento ci sarebbe da aprire una parentesi, ma è lunga. E sai, io sai per che motivo ho venduto il Pier Polen e non questo? Perché mi terrò questo per sempre, di fatto, per testare l'ST19 per sempre. Perché tra 60 anni ci sarà il Ford Panda e la richiesta del Ford. No, no, proprio lo terrò per testarne le qualità, per vedere se dura negli anni. Ah, ok. Per vedere come si comporta sul lungo periodo questo movimento, che per ora mi sta dando solo ottime soddisfazioni. A parte, ecco, ho notato su alcuni Pier Polen, in generale, su alcuni ST19, una leggera sbavatura, come posso dire, quando c'è il minuto cronografico. Forse lì è leggermente impreciso su alcuni, però bisogna capire come sono revisionati, gli stampi, se sono precisi o meno. A volte, su questa fascia di prezzo, errori del genere possono anche starci. Vai, scegli tu adesso. Vado avanti io? Allora, vediamo un po', ti faccio vedere, cambiamo genere. Ti faccio vedere il mio Seiko 75-48. Ecco, io sono abbastanza ignorante di Seiko, lo ammetto. Quindi ti sto ad ascoltare. Allora... Sembra un normale SK-X. Sembra un normale SK-X. La cassa è leggermente diversa rispetto a quella moderna dell'SK-X, proprio nella forma laterale, leggermente diversa. Ma, di fatto, dopo l'era... Comunque non è il primo diver di Seiko. L'era dei diver di Seiko è iniziata un decennio prima, forse un filo di più, con altri generi di orologi. Questa tipologia di orologio aveva una filosofia diversa, ossia offrire il diver a tutti. Quindi un quarzo, all'epoca era l'epoca dei quarzi, il movimento che incassa dentro è molto bello. Si può smontare tutto, c'è parti che si possono, in teoria, riparare, se ci sono delle parti che si rompono, eccetera. Vabbè, questo è un discorso a parte, ma costava poco. Cioè, era un diver veramente economico, veramente certificato, professionale, 150 metri, con la corona a vite. Ed è... e fu un po' una nuova nicchia, praticamente, no? Comunque si vede che anche... cioè, che la qualità era diversa, anche dall'innesto della corona. Minchia, sì, l'innesto della corona è un blocchetto, eh. Ma queste sono le tacche dei cammini? Sono le tacche di quando viene cambiata la pila. Incredibile. Queste sono quelle cose, come le revisioni dei militari. Sì, sì. Che mettono che incidono la revisione nel fondello dei militari. Questo qui, di fatto, è molto simile all'SKX moderno, come configurazione, proprio lui. Soltanto che quello moderno è 200 metri, credo sia leggermente più robusto. Il quadrante è identico. Il quadrante è identico. L'inserto è leggermente diverso, nel senso che questo qui è... è un inserto vintage, il suo originale, che è virato... Bello, però, così faded. È virato dal rosso al rosino e il blu ad un azzurro chiaro. Mi piaceva molto, l'ho ordinato, tra l'altro, da un ragazzo del gruppo 1881. Ed è un orologio che ho comprato per darmi finalmente l'inizio alla collezione degli sim case. E vorrei comprarli tutti. Rischio di finirci anch'io a prendere uno sim case. Sì, sul gruppo Telegram già lo sanno che gli ho un po' puntati. Vintage o nuovo? Ma non lo so. Non lo so, perché... Andai su vintage. Io non sono un grande amante dei vintage, perché, come sai, sono un po' perfettino, nel senso che mi piace che l'orologio invecchi con me, diciamo. Certo. Però, oggettivamente, beh, oggi sono con un vintage, quindi... Oggi sei con un vintage. Oggi sono con un vintage. Ne parliamo, direi, per l'ultimo, dato che... Come vuoi, sì, sì. Che è come per uscire, no? Praticamente. Andiamo avanti e direi di ricollegarci all'ultimo, no? O meglio, non è proprio l'ultimo, perché l'SKX non è l'ultimo slim case attualmente, gli ultimi slim case sono i Seiko 5 Sports, ma l'ultimo vero diver è questo qua. L'argomento quello lì è un po' più delicato. Beh, sì. Cioè, nel senso, ne abbiamo discusso, ne abbiamo discusso e ci sono due scuole di pensiero, chi semplicemente ritiene che Seiko faccia bene a cavalcare l'onda della sua cassa di maggior successo. E chi invece lo ritiene un po' come me, un non guardare alla propria storia, comunque. Sì, esatto. Perché a livello di costi non cambiava nulla a loro renderlo un diver professionale. Anzi, non cambiava nulla, nel senso, cambiava pochi euro che però nella massa fanno la differenza e per guadagnarli di più hanno lesinato su alcune cose. È innegabile. Esatto, cioè, nel senso, c'è un po' una perdita di filosofia, diciamo, perché ti scompare la cassa slim case da un orologio diver e finisce su un orologio non diver con la corona a pressione e dall'altra parte c'è un incremento dei costi che secondo me non è propriamente giustificato dal semplice upgrade di movimento e la finitura diversa del quadrante. Però, vabbè, questo classico SKX, bello, io ho un Tartle che non è così. Sì, siamo lì, siamo lì. E poi hai maneggiato l'SKX 013, comunque li conosci. Sì, avevo lo 013. Una cosa incredibile, maneggiando prima il 7548 e poi questo, è che il peso, tra l'altro, è molto importante. Cioè, sembra lo stesso anche se è un quarzo. Il 7548 pesa uguale e la cassa a livello qualitativo rimane la stessa. Il bracciale non conta niente sul peso. Il bracciale... a me piace, a me piace questo bracciale qua. Sì, perché... No, vabbè, allora, secondo me ci sta per un orologio di questa fascia di prezzo. Quando vai già sul Tartle, il bracciale secondo me era... Infatti l'ho preso col cinturino in gomma. Te lo sei preso, strapcode. Sì, l'ho preso solo per una questione di comodità e appunto anch'io... Perché a me piace variare, quindi mi piace variare da, in quel caso, da un cinturino... Da un cinturino in cauccio o in ato d'estate a un bracciale. Comunque, per uscire dal discorso Slim Case, si ha fatto incazzare così tanti appassionati è perché prendere in mano il primo, che ormai ha trenta... e passa anni, e l'ultimo sembra di avere lo stesso orologio in mano. È come fare la 911 a quattro cilindri. Quindi è un continuum. Cioè, se tu tradisci questo continuum facendo un orologio con un'impostazione diversa, non puoi aspettarti che gli appassionati siano tutti... tutti d'accordo con te. È una di quelle cose che divide le persone... divide appunto gli appassionati. Io mi ero detto che non l'avrei comprato, mi ero dato del tempo per ragionarci e per ora ancora sono della stessa pensiera. Io direi che adesso possiamo passare, cambiando un attimino argomento e cambiando budget, andiamo su uno dei miei orologi importanti. Andiamo magari al mio sub. Vai. Qua cerchiamo di stare... è un orologio che tanti conoscono, non parliamo per venti minuti perché veramente rischiamo di fare un podcast di tre ore. Grazie ragazzi se state ascoltando. Questo è tra l'altro del tuo anno, giusto? Questo è del 94. L'hai preso del tuo anno. Ti racconto un minimo la storia. Ne ho comprato... il primo che ho comprato era Nudo e Crudo del 2004, se non erro. L'ho permutato un paio d'anni dopo, più un altro orologio e una differenza di prezzo a mio favore. Per questo, del 94, trizio, scatole e garanzia. Beh, il Submariner è uno degli orologi secondo me più belli. Sì, io concordo. E è innegabile che il 16610 sia tra le referenze dei Submariner quello che ha avuto il maggior successo probabilmente. Sì, è probabilmente il Sub più diffuso in assoluto. E ad alimentare quello che probabilmente diventerà un mito, perché sta il fatto che la referenza successiva ha fatto un grosso salto di... Cioè, molto diverso esteticamente. Quindi, nel senso, le forme di questo orologio si sono già... fanno già parte del passato. Fanno già parte... io già... la gente che tende ancora a non considerare questi orologi vintage, secondo me sbaglia. Nel senso che un orologio del genere in casa Rolex al momento fa parte appunto delle produzioni passate. La cassa ora è diversa, il quadrante è diverso, la ghiera è diversa. Il bracciale è diverso. Ma in realtà è stato tutto un salto in avanti, però un salto indietro dal punto di vista estetico. Questo è il mio gusto personale. Sì, ci sono cose... sono oggetti diversi. Sono proprio due orologi diversi. C'è da dire, se ne è parlato anche... se ne è parlato a non finire, l'estetica è diversa. Questa è l'estetica dei cinque cifre più aggraziata. Io ho un Submariner Ceramica. Devo dire che esteticamente... sì, è meno aggraziato, però io lo trovo quasi altrettanto bello, insomma. C'è da dire che il Submariner Ceramica ha fatto un grosso salto di qualità. Un enorme salto di qualità. Soprattutto la versione senza data, perché è la prima... con le nuove produzioni per la prima volta il Submariner, diciamo, no data, o semplicemente Submariner e basta, e il Submariner date, per la prima volta effettivamente si differenziano solo per la presenza della data. In passato era diverso il movimento, uno era certificato COSC, l'altro no. In questo caso cambiava addirittura... per l'ultima generazione di 16-610 cambiava il fatto che uno aveva il bracciale con i finali pieni e l'altro no, quindi... No, però... Detto questo, rimane sempre un gran bell'orologio. Si commenta da solo, non abbiamo parlato tanto. Un must-have. Un must-have. Passiamo avanti. Che poi ci sarebbe anche lì, ci sono due scuole di pensiero, chi va per il GMT e chi va per il Submariner. Sì, sono proprio due. Io quando ho iniziato ho detto Sub. Probabilmente se avessi iniziato col GMT adesso sarei Team GMT. Ma te vai a pescare, se non prendi il Sub te... Allora, passando da un orologio importante a due orologi super entry level, questi li commentiamo in un'unica botta, sono i due casi o per eccellenza entry level. Io c'avevo la versione dorata. Minchia. Ci ho fatto... Con lo metallico, tutto così. Sì, sì, sì. Grande compagno di serate, perché quando facevo serate mi mettevo quello per... Mamma mia, sei quanto flexavi. No, proprio... Infatti che era l'attruzzo, però in effetti... Lo uso ancora per andare in palestra. F91V, l'iconico nero, è sinceramente non mi ricordo la referenza di quell'acciaio, o tra virgolette acciaio. Di questi io non mi ricordo assolutamente niente. Non mi ricordo. Questi sono i classi orologi che compri... Per gioco. Lo metti al polso e vai avanti. Io questo qua di metallo l'ho lasciato appeso nella... non nella doccia, nel comodino del bagno per leggere l'ora per sei mesi. Figurati. Cioè, è indistruttibile. E l'ho comprato veramente per 15 euro per gioco, per provarlo, ma quando ho provato in realtà quello di gomma, quello di resina, ho capito che probabilmente è meglio questo qui. Come a peel, cioè proprio più... trovo più bellino. Più che altro il bracciale è meno... Il bracciale è un lamierino terribile. Comunque, questo qui, questo nero qua, ho intenzione, se riesco, di far lucidare, barassatinare il fondello, farci un'incisione e regalarlo al mio cuginetto che adesso c'ha quasi due anni. Accidenti. Come orologio da distruggere all'asilo nei primi anni di scuola. Sì, in effetti il trucco è mettere subito al polso dei bambini un orologio. Un orologio è lì, ragazzi, fate l'investimento. Cioè, a me è successo così, mi hanno messo al polso un orologio a sei anni e ho rovinato per la vita. Esatto. Allora, vabbè, questi si commentano da soli, entry level buoni che costano pochissimo. Tra l'altro c'è stato un periodo che andavano, almeno dalle mie parti, andavano proprio di moda. Non eri nessuno se non andavi... I casi sono sempre andati di moda. Diciamo che sono abbastanza simili al fenomeno Daniel Wellington, solo dal punto di vista giusto, nel senso che costano quanto valgono per davvero. Esatto. Non c'è il marketing che storpia un po' la percezione. Allora, possiamo passare adesso a questo Omega. Allora, questo io ti ho detto che secondo me l'hai comunque pagato poco, anche se è il suo prezzo. Anch'io condivido. Perché secondo me un Omega del genere, con un disegno del genere, anni 70... E' anni 70, questo. Ah, metà anni 60. Ah, metà anni 60 addirittura. Pre-Royal Oak. Ci credi? Questo pare, mi ha detto Maurens Monkey, pare sia stato progettato da Geragenta quando lavorava in Omega. Cioè, è incredibile che un orologio del genere lo prendi con... 300 euro. Cioè. 300 euro. E poi davvero, cioè, io sono rimasto... è partito subito al primo colpo anche questo. Cioè, questa è una cosa che degli orologi meccanici a me piace un sacco, il fatto che... Oh, subito. Dai la carica e partono. Bello, vero. Questo che c'è da dire. Allora, io non vado molto d'accordo con i bracciali integrati, perché a me piace cambiare periodicamente cinturino barra bracciale. Però, oggettivamente, ci sono questi modelli che nascono così e poi... Sì, devo farlo stringere un po' perché in effetti ora è inindossabile, nel senso che la maglia di chiusura qua si è aperta. Ah, e mi si sfila. No, no, non è che mi si sfila. Entrano i peli dentro e mi prude, non riesco a indossarlo. Quindi adesso devo revisionarlo, lucidare il vetro. Noi non siamo come gli orientali che sono senza peli sul polso. Esatto. Comunque, orologio meraviglioso, una cattura da mercatino. Adesso ne vediamo altre due di cattura da mercatino. Un'altra, sì, una cattura da mercatino. Poi bellissima la clasp. Sì, la clasp logata, corona logata. Fondello purtroppo no, però, cioè, quadrante originale. Questo l'hai aperto, ho visto il movimento com'è? No, non l'ho voluto forzare, perché so che movimento è. È un movimento mega tisso. Sì, sì, no, per vedere se avevi visto anche condizionare il movimento, però... No, cammina bene, cioè, in realtà, il quadrante è in ordine. Quando ho capito che comprando vintage, quando i quadranti sono in ordine, i movimenti almeno... Cioè, il massimo che possono avere è essere secchi. Quando hanno patine, rischi di trovare dei movimenti conciati quanto il quadrante. Mangiati dalla luce. Andiamo avanti e passiamo all'altra conquista da mercatino che ho avuto l'anno scorso. Che è uno degli orologi che preferisco. Il mio Longin 60-70 con calibro 30L. Allora, questo fa parte dell'epoca in cui Longin faceva dei signori calibri. Il top del top. Cioè, il calibro 89, che saranno due o tre categorie sopra questo, è nel senso equivalente a... quasi equivalente ai Patek Calatrava dell'epoca. Cioè, nel senso... E sono orologi che costano relativamente poco, anche adesso. Ma questo, per la sua semplicità, io lo riesco a paragonare benissimo a livello estetico ad alcuni calibri di barchi ben più blasonati, il 30L. Calibro stupendo. Cioè, orologio che ho avuto un culo sfrenato a trovare l'originale nei mercatini. Non pensate sia facile. L'ho pagato poco più di 200 euro. Con quadrante originale, corona originale. E tutto suo, ragazzi. L'ho smontato. Quando vedi che il fondello è il suo, quando vedi che tutte le parti sono originali, ti rendi conto che per questi soldi... Cioè, quando vuoi veramente spendere bene i tuoi soldi, hai un po' di consapevolezza di questo mondo, comprare orologi vintage... È la scelta migliore. Esatto. Il punto è essere... Cioè, avere un minimo di esperienza. Quello è il punto. Perché poi... Ecco, il neo... Quello che sconsigliamo un po' tutti, no? Della nostra community al neofite è di andare a comprare subito un orologio vintage. Perché finisci per... O ti si rompe, o lo compri ristampato, o ti becchio un'inculata. Devi stare attento. Sì, allora, devi stare attento a cosa compri. E poi, in generale, devi capire l'orologio vintage, perché gli devi dare delle attenzioni diverse e ha oggettivamente, diciamo, un utilizzo in parte diverso. Devi anche aspettarti un tipo di funzionamento diverso. Comunque è bellissimo anche sto cinturino. Cinturino in lucertura, sì. Molto, molto bello. Comunque, vedi, ora non si possono fare nomi, ma questa marca qua fa dei cinturini ottimi. Oh, sì. Sì, sì, infatti la consiglio spesso. E a me piacerno tantissimo i cinturini in lucertola. Tra l'altro, cioè, cambia anche il ticchettio di questo, che... Cioè, bassa frequenza... Rispetto, sì, questo qui è un bassissima frequenza rispetto ad altri. E niente, ragazzi, torniamo in Giappone. Torniamo in Giappone. Oh, fammi vedere questi che non li ho mai visti. I quali? Voglio vedere... I 61-39. Prendi, vai, il panda. E dal vivo questo non l'avevo mai visto. Mai. Mai. Bello. Cioè, vedi, ti rendi conto che questi sono orologi. Ora stanno... Ora sono veramente cresciuti un botto. La satinatura della parte frontale è after. L'anno... C'è qualcuno, deve averlo rimesso in sesto nel modo sbagliato. La cassa in origine era tutta lucida. Ma a parte questo, l'orologio è completamente originale. Braciale, fondello, movimento, quadrante, sfere, tutto suo. Però, cioè, se tu prendi... Ora, al di là del pregio del movimento, però a livello di qualità percepita, non ha niente da inviare agli altri cronografi della sua epoca. Sì. Diciamo che tanti si lamentano dei bracciali in lamierino, ma in realtà i bracciali delle altre aziende erano il lamierino all'epoca. Rolex faceva i bracciali in lamierino al piegato, così come Omega. A livello di calibro. Loro erano un ottimo compromesso a livello di calibro. Cioè, va com'è impegnativo al polso. È massiccio. Io adesso ho scoperto di avere proprio effettivamente un debole per la configurazione dei crono. Verticali. Ah, panda proprio. Il quadrante panda è oggettivamente bellissimo per un cronografo. Che poi chiamarlo panda è strano perché... Sì, è un panda, ma è un grigio azzurrato quello. Lo vedi? Sì, sì, ma diciamo che tutti i quadranti... Anche il Daytona, il 6263 è... Di fatto non è un quadrante bianco. Sì. È un quadrante argentato, quindi... No, però è molto bello. Sai, la storia di questo è stato un parto. Trovare il bracciale. Allora, so che hai trovato il bracciale dopo, però sei stato già abbastanza fortunato per aver trovato il quadrante corretto su questo. E all'epoca... Io l'avrei comprato probabilmente anche con il quadrante after, perché all'epoca non ero esperto di panda. Cioè, mi sono reso conto che era originale solo dopo averlo comprato. Tra l'altro adesso costano... Adesso, in queste condizioni qui, braccialato un panda almeno 1300. Tra l'altro mi ricordo uno dei tuoi primi video era i 6, i 3 Seiko che prenderanno... Che raddoppieranno di prezzo nel giro di due anni. E ci ho preso... C'era questo... Eh, infatti, c'era questo. C'era lui, che ha triplicato, e poi c'era il POG. Ah, ebbè. Sul POG era più facile. Il POG era più facile. Il 738 l'ho fatto io con l'orologio lì. Cioè, se non l'avessi spinto a quest'ora altro che 500 euro... Anzi, adesso ne parliamo subito e ci ricolleghiamo. Un po' mi sono pentito, nel senso che tanti lo stanno strapagando, di fatto, perché inizia a diventare tanto, 500 euro per quello. Però, ecco, a livello costruttivo il bracciale è forse un po' meglio di questo. Seiko fa riflettere il fatto che in un orologio relativamente economico riescano a mettere delle soluzioni tecniche. Incredibile. Messo verticale, ruota a colonne, cioè... Calibro crono automatico, con due contatori, dei date. Doppio datario, esatto. Cioè, oggettivamente... Ti faccio vedere il movimento. Ah, questo lo puoi smontare? Sì, io lascio sui vintage quasi sempre il fondello allentato, perché mi piace guardarli. Ah, vediamo il movimento, allora. Il movimento, rispetto a chiaramente, non è il primero, è molto più grezzo. Però fa il suo dovere. Che questo è il logo del tuo canale, no? Questo qui, una volta era il logo del mio canale, adesso è molto più stilizzato, ma di base è sempre quella, sì. Sembra paragonabile a un valigiuo 77,50. Anche il fatto che abbia il ponte, cioè che abbia il ponte del bilanciere a doppio, fissato in due punti. Com'è che si dice a doppio perno? Non lo so, vabbè. Non lo ricordo. Comunque è una soluzione tecnica. Non da poco. Non da poco. Ruota a colonne, sì. Ruota a colonne. È l'unico difetto dei cronografi, è innesso verticale e che i ruotismi non si vedono. Cioè hanno... esteticamente sono... Eh, ma sono fatti... Questo è fatto per stare chiuso ed essere affidabile. Poi c'è da dire che su questi è meglio evitare, ragazzi, se ne avete uno, un qualsiasi 61, 30, 39, 38, evitate di far girare il crono. O meglio, evitate di far azzerare e partire il crono troppo spesso. Davvero? Io consiglio sempre di lasciarli girare in modo costante sempre, perché diversamente... Sono costruiti in modo diverso dagli altri cronografi, cioè... Perché danno problemi? Far girare sempre un qualsiasi crono è sconsigliabile, perché finisci per lo guardare nelle ruote. Qui la lancetta dei secondi cronografici diventa di fatto parte integrante del movimento, almeno. Questo è il modo in cui è stato concepito questo movimento, che è diverso. Cioè non ha... Ah, quindi tu lo lasci sempre innestato? Gli esperti di Seiko che conoscono la meccanica di questo orologio, ad esempio Spencer Klein, che è uno youtuber, che è un riparatore Seiko, consiglia di farli girare sempre. E ti dirò di più, è diventato molto più preciso da quando lo faccio girare sempre. Sai che questa cosa non lo sapevo. Molto più rumoroso. È incredibile. Ed è una cosa unica di questi movimenti. E anche per i vari 7000 sempre crono di Seiko, ma vale solo per il crono Seiko. Io sapevo che in generale i cronografi ogni tanto è bene farli girare un paio d'ore. Sì, giusto per lubrificare le ruote. Però se ne fai andare finisci per consumare i dentini. Perché non sono fatti per girare sempre. Già sugli innesti verticali, quelli con innesto verticale è diverso perché potrebbero girare per le 12 ore consecutive senza riportare... Non è che gli altri riportino danni, ma alla lunga è vero si... Proprio a causa del tipo di innesto si consumano in maniera diversa, diciamo. Ok. Bene. Andiamo avanti e ragazzi ovviamente se c'è qualche imprecisione tecnica ditecelo, fateci sapere che siamo qui anche per imparare. Riguardo questa questione dei Seiko dovrai finalmente mettermi lì con un orologiaio veramente competente e parlare di questa cosa. Questo dallo a me che tu ce l'hai maneggiato troppo. L'hai maneggiato troppo? Questo l'hai già visto però mi sembra dal vivo. Questo l'ho già visto, sì. 7A38, 70A8. Forse sai che questo è uno degli orologi più ricercati da quelli che mi chiedono Marco quanto costa, dove lo posso trovare? Più del Panda, più di qualsiasi altro vintage che ho in collezione. Questo è molto bello secondo me. Cioè esteticamente. Sì, ma anche il calibro. Beh, anche il calibro è... Io, allora, ripeto, non sono molto esperto di Seiko. Infatti qui mi sto facendo io una cultura. Però devo dire che già quando metti un quarzo con una disposizione corretta dei contatori... Ma con una tridimensionalità così, ma se ti rendi conto, se guardi da vicino la qualità delle finiture, di come sono tagliati gli indici, cioè ti rendi conto che è un orologio veramente di qualità. No, ma anche la cassa, per come è lavorata la cassa. No, ma, cioè per farvi capire, non è un sector. È un Seiko 7A38, sono abbastanza unici nel loro genere, anche a livello di movimento, completamente, anche lì, tutti modulari, hanno dei ruotismi in teflon, se non erro. Però sono ruote che puoi smontare, oliare, pulire, eccetera, i rubini, eccetera. Hanno parti che... Hanno, pensate, per ogni contatore è una bobina diversa. Quindi, se si brucia una bobina, puoi cambiarla con un altro pezzo, con le parti di ricambio. Non è il classico quarzo che bisogna buttare via tutto. Ma quant'è che ce l'hai questo? L'ho preso poco dopo il Panda. Da almeno tre anni. Forse un po' di più. Quindi l'avevi preso quando costava... L'ho comprato 280 euro. Però in realtà, Manuel, il mio amico, gli hanno trovato uno su eBay a 280 euro due anni fa. Quindi ancora si trovavano quando stava scoppiando la bolla. Solo che su eBay la gente non era ancora troppo... Cioè, almeno i miei iscritti, credo. Per quelli che mi seguono, poi l'hanno fatto aumentare loro, di fatto. Anche perché mi ricordo al primo raduno ne avevate portati quanti? Tutti insieme. Eh, non ho dieci, undici, ora c'hai ora. Già era difficile trovarne uno. Tutti dieci insieme. Lì era stata una cosa unica. Andiamo avanti e passiamo all'Alpinist. Allora, io dico subito che non sono un grande amante dei quadranti verdi. Infatti l'ulk non mi fa impazzire. Detto questo, non sono... Sono uno dei pochi che non apprezza l'Alpinist verde, ma è un mio gusto personale. Però... Però, per esempio, le ultime uscite, le ultime versioni di Alpinist che appare entreranno in commercio a gennaio, le altre varianti di colore... Sono belline. Cioè, è anche un bello orologio. Cioè, al di là del discorso del quadrante, il colore del quadrante, ha oggettivamente una... Beh, Seiko comunque ha una qualità, secondo me, molto alta come livello di rifiniture. Sì, hanno delle... Cadono su delle cose tipo l'allineamento dei reo, delle ghiere varie, ma... Certo che il fondello chiuso è una cosa che non vedremo più. Eh, ma il fondello chiuso, come questo, che poteva essere persino lavorato meglio, ha una lavorazione a incisione, molto carina, ma se avessero fatto un fondello bello come quello dell'SKX su questo Alpinist sarebbe stato super collezionabile. Questo me lo provo perché se penso di prendermi uno dei nuovi, almeno vedo come mi sta. Eh, questa, la misura è quella. Cambia ben poco, a parte il logo Prospex. Forse sarà un filo più spesso, perché il movimento nuovo, non lo so, se ha lo stesso diametro. Di fatto è molto simile. No, dovrebbe essere uguale. Il diametro, sì. No, il diametro, scusa, lo spessore. Ah, questo... Questo non ho... Perché ha più ore di riserva di carica, non so se gli hanno infilato dentro un bariletto più spesso, a dire il vero, non so, è la base la stessa. Comunque lo spessore non è ridottissimo. No, è un orologio abbastanza alto, quello sì. Però c'ha questa forma... Ma è un film watch, cioè ci sta. C'ha questa forma particolare delle ansie, molto incurvate, molto bello. Questa è la prima volta che lo vedi? No, non è la prima volta che lo vedo. Ok. L'avevo già visto, mi ero già convinto che questa... Cioè, non è tanto la finitura, è proprio il mio gusto. Il verde non è... Non è un colore che mi piace tantissimo sui quadranti. Ma infatti è un orologio che si usa per uno, due, tre giorni dopo che inizia a stuccare. Devo dire che a me all'inizio non piacevano neanche le sfere. Con il tempo ho iniziato ad apprezzarle, invece. Idem, idem. Ok, passiamo al... Passiamo... Ora andiamo da un'altra parte del mondo. Dal Giappone andiamo in Russia. Eccoci. Siamo arrivati. Si vede proprio che siamo partiti... Che io sono partito... Perché io non ho mai avuto un russo. Quindi anche qui è la prima volta che... Che posso maneggiare un Vostok. Amfibia. Vostok, Amfibian 2019, praticamente di nuova generazione. Questo è partito semplicemente ad agitarlo. Sì, sì, no, ma hanno... Penso una massa talmente sensibile dentro e... Anche abbastanza silenziosa nella rotazione. Ah, se la corona la senti mollina è tutto regolare. Eccola. Beh, è oggettivamente un... È un altro mondo, è davvero un altro mondo. È un talk de fer. Come avevo detto prima... Ti faccio vedere il fondello. Vai. Vai. No, con questo ci puoi aprire le cozze. Con questo ci apri le cozze, ma... Lo dai in testa a una ragossa? Guarda come è lavorato il fondello. Eh sì. Beh, vedere le scritte in cirillico poi fa strano. Fa strano, ma io l'ho preso questa referenza perché... Aveva una cassa diversa dal solito e aveva lo scuba man sul... Lo scuba... Tude sul quadrante. Ah, la cosa è bidirezionale. La ghiera è bidirezionale. Sì, la ghiera purtroppo è bidirezionale. Eh, però è bellino il quadrante, cioè... Indici applicati a una buona luminescenza. Quello credo sia... Non lo so, sinceramente. Comunque, vedi anch'io quando... Cioè, nel senso, ora io ho un po' di anni che sto dietro gli orologi, però per esempio il mondo dei russi non c'ero mai arrivato. Così come sto arrivando... Devi arrivare... Di ritardo... Devi arrivarci per gioco. Agli orientali, esatto. Tipo a Seiko. I russi veramente si comprano quasi per gioco, con il poco che costano. Io l'ho comprato per giocare, per esperimento. Eh, stavo pensando che anche qui... Mi ricordo quando facesti vedere il cambio della data. Sì. Come si cambia la data. Come sui vecchi orologi. Scoperta. Su alcuni vecchi orologi svizzeri. Proprio il feeling di altri tempi. Sì. Andiamo avanti. Questo è comunque il mio mulo estivo. Ti consiglio di andare su Merano e comprartene uno a caso per distruggerlo al mare. Il più russo possibile. Non torni più indietro. Non torni più indietro. Te lo garantisco. Magari guarda di nuovo la mia recensione con la canzone super russa. Oh, ho sbagliato a mettere il dato. Passiamo a... Boh, quello che vuoi. Tira su quello che vuoi. Allora, ero curioso di vedere questo. Il Visio Date. Uh, il Visio Date. Questo qua è stato frutto della collaborazione tra me e Swatch Group Tissot. Ormai un anno fa praticamente. È stato il primo video che ho realizzato insieme a loro. C'è uno specchio sto vedendo. Purtroppo l'unico neo di questo orologio qua è che non ha nessun trattamento antiriflesso sul vetro zaffero bombato. E di fatto è molto poco leggibile. Ed è un difetto che ho constatato nel tempo e non durante la recensione. Comunque trovo sia un orologio elegante entry level molto molto valido. E sulla versione con il quadrante chiaro il vetro è molto più leggibile. Contribuisce il fatto del quadrante blu, eh. In questo caso. Tornare indietro probabilmente l'avrei preso bianco. Allora, io sono andato a vederlo, mi ero informato perché stavo cercando tempo fa un dress, diciamo, un orologio elegantino, carino. Poi sono finito su quest'altro che vediamo più tardi. E l'unico difetto per me invece di questo orologio è il diametro. È il diametro. Perché 40 mm per un orologio tutto quadrante sono un po' tanti. Certo. Poi io ho il polso da ragazzino. È come il mio più o meno. Però ti dirò una cosa molto interessante. Se poi, se noti questa cassa... Sì, ho capito cosa... Ha una discesa. Quindi praticamente guadagni 4 mm. Quindi il quadrante impiega il polso come un 38. Sì, ho capito. Non è enorme. Cioè, rispetto ad un oriente bambino che ha appena un millimetro più grande, l'oriente bambino sembra una padella. Rispetto a questo, chiaramente. Eh sì. Poi devo dire, non mi disturba neanche più di tanto il Day-Date che alla fine arriva quasi sul... Avrebbero potuto farlo blu, eh. Il datario colorato in blu. Per avere meno... Beh, comunque è davvero illegibile. Cioè... Si legge davvero... Si legge poco, anche perché le sfere sono molto simili. Però è un bello orologio. A livello costruttivo ha un bel movimento. Vetro zaffiro bombato. Cassa bella lucida. Io, infatti, non l'ho venduto perché ogni tanto mi piace indossare un orologio diverso, ma gli a Milano, molto comodo. Sì, devo dire che il bracciale mi sembra fatto molto bene. Eh, il mesh a tanti non piace. Normalmente i mesh sono fatti non benissimo. No, beh, quello è un bel mesh. Poi bisogna vedere chi glielo produce. Ma qui entriamo in un altro argomento un po' più spinoso. Allora, ho tirato su... Eccolo. Quello che, come ti stavo raccontando prima, è l'orologio che ti ho visto recensire la prima volta che sono capito... La prima mia recensione che tu hai visto. Sì, che ho visto del tuo canale. È sempre questo? È sempre lui. No, quello non l'ho mai... L'unica cosa che ho fatto a questo orologio è comprare due maglie per poterlo mettere il braccialato. Ma perché gli mancavano? Ne aveva poche. Probabilmente era indossato da una ragazza prima. O da un ragazzino. Ma comunque usciva con delle maglie in più. No, non ho una idea di quanta fatica che ho fatto per comprarlo. E l'ho comprato di secondo polso, è un vintage che è... Sì, sì, no, no. Ovviamente l'ho comprato così come era. Non avevano i venditori che me l'hanno dato in un comproro abbastanza maglie. Sì, mi ricordo che hai riuscito, l'avevi incrociato, ci avevi pensato, poi l'hai tornato. Io sono tornato, non hai idea di quante volte ci sono tornato. Per settimane continuavo a passare davanti a questo comproro e lo guardavo. E dicevo, ma è piccolo. No, è bellissimo. No, è piccolo. Minchia, però c'è una patina. Entro, l'ho preso. Cioè, ho ragionato sull'acquisto di questo orologio per varie settimane, ma è stato uno dei miei migliori acquisti di sempre, perché è raro. Automatico. Ha avuto dei problemini per quanto riguarda la tenuta della carica, perché probabilmente è stato usato parecchio. Però da quando l'ho rimesso a posto, ha le sue 40 circa ore di riserva, ha vetro zaffero, movimento molto affidabile. Beh, poi un età. Età, ma poi il diametro. Cioè, ti rendi conto di quanto si porta bene un diver da 36? No, beh, poi io col polso da 16 e mezzo, per me è quasi perfetto. Dico quasi perché a me il diver piace da 40. Probabilmente da 38 sarebbe stata la fine del mondo. La fine del mondo. Io lo trovo spaziale. Però, insomma, alla fine ha un bellissimo viraggio. Sono orologi che non si prendono con cifre enormi. Ormai, cioè, io ti considero che io l'ho pagato meno di 1000 euro. Beh, ora, adesso tu hai esagerato. Adesso sono saliti. Ora sono saliti come tutti, però in effetti... Davvero molto bello. Molto, molto carino. Ma poi il peso. Cioè, è un orologino piccolo, ma importante. Sì, perché erano gli anni in cui non si lesinava nei materiali. Esatto. Il bracciale, pensa te... Anche Zenit ha sempre fatto orologi belli, pesanti. Belli, pesanti. Anche nei bracciali. Cosa che, devo dire, Rolex non ha fatto. Pensa te che il bracciale di quello, come tutti i bracciali Omega dell'epoca, è ancora a perni. Cioè, sono passati a fare i... Ad esempio, sullo Speedmaster, i bracciali con le viti l'hanno fatto solo sull'ultima referenza con lo scatolone. Prima erano a perni. Cioè, per tanto tempo sono stati a perni. Poi c'è Fatech Filippi che invece ha fatto il percorso inverso. Andando a degradare. Se non sbaglio, sul Nautilus avevano le viti e poi sono passati ai perni. E per risparmiare, dai, costa... Oppure è sempre stata a perni. Non me lo ricordo, perché ovviamente... Vabbè. Allora. Iniziamo ad andare verso la seconda metà. Anzi, verso l'ultima... Sì, diciamo che abbiamo superato la metà, probabilmente. Direi di iniziare ad accelerare un po'. Quindi accogliamo degli orologi insieme. Vediamo, esatto. Facciamo una cosa, guarda. Questi qui sono di fatto due facce della stessa medaglia. Possiamo vederli insieme e parlarne insieme. Questi tre, dici? Questi tre, esatto. Se prima abbiamo parlato del panda, ora parliamo degli altri miei 61, 38, 39. Si tratta del Jumbo, referenza 61, 38, 3000. Qual è il Jumbo? Questo qua nero. Il Jumbo perché è bello grosso. 61, 38, 80, 30, che è il Jumplayer Special. Questo qui è da... Comunque Jumplayer... Cioè, su queste grafiche ci scappa sempre il Jumplayer Special. Sì, è vero. C'è niente da fare. E sul mio Seiko Helmet, molto carino, che credo abbia la lancetta dei minuti cronografici After, ma è molto bello. Un orologio che non uso mai, probabilmente per colpa del bracciale After, che mi fa veramente pietà e non vedo l'ora di trovargliene o un originale o un cinturino adatto. Comunque... Allora, di questo pure devi cambiare il cinturino, secondo me. A me piace un botto da quando gli ho messo quello. Sì, ma lo so, io il cocco su una grafica del genere... Devo trovargli il bracciale originale, devo trovargli il bracciale originale. Comunque c'è una specie di mini collezione di... Di 61, 30. Eh, di questi mi piacerebbe averne molti di più. Manuel ne ha tanti, ha tante referenze che io non ho. Kakume, Buled... Il Buled è molto bello. I vari colori del Jumplayer. Il Buled è anche quello... Quello è un altro vintage su cui stavo un po' arrivando. Il Buled è molto particolare. Ma ora che non è partito come tutti si aspettavano. Perché, di fatto, il Buled era negli occhi degli appassionati collezionisti di brand ben più prestigiosi, come gli appassionati di Rolex, eccetera, già un tempo fa. E adesso ha raggiunto cifre comunque interessanti. Cioè, si prende un Buled a 800... Ora che mi hai spiegato questa cosa di lasciargli sempre girare, mi fa strano vedere il cronografo che sta girando, che qui ha segnato già 10 ore quasi. Sì, il crono io non lo fermo mai. Questo qui è fermo, ecco. E l'avevo bloccato. Il problema è che sconsigliano di usarli i cronografi, quindi di lasciarli andare sempre. Perché se si rompe la parte dell'innesto è finita. Perché SAC non la produce più. Devi trovare una carcassa per trovare la parte. Perché l'innesto verticale conviene più sostituire tutto il pezzettino dell'innesto che la singola ruota. È una rottura. A livello di movimento sono stati i primi con l'innesto verticale. E bisogna vedere se altri orologi con l'innesto verticale hanno lo stesso tipo di problematica. Nel senso che puoi far andare sempre il crono, oppure no. Qua è proprio un dato di fatto. Cioè mi hanno insegnato così. Allora, io so che... Sapevo che se si rompe l'innesto verticale, cioè se si rompe l'innesto devi cambiare tutto il blocchetto. Come dice il cecco che sono usa e getta di Daytona. Sì, cioè, nel senso, non è proprio... È un po' un'estremizzazione di un concetto. Nel senso che è normale che se hai un pezzo lo puoi sostituire. E molte volte per la fatica che devi fare per sostituire proprio il pezzo rotto, conviene sostituire tutto il blocchetto. Però quelli, insomma, dei calibri moderni, so che il vantaggio dell'innesto verticale è proprio che ti permette di farlo lavorare sempre senza creare danni. Questo qui lo chiamano anche i Psycho Moonwatch. Non è mai andato sulla luna, ma in effetti un po' ricorda lo spirito. Per la grafica del quadrante. Sì, per la grafica del quadrante con i bastoni, no? E niente. Queste grafiche qua... Sono tutto... Gli anni 70 erano veramente... Veramente spaziali, appunto spaziale. E niente. Ho letto un articolo di un ragazzo, cioè di un blogger che diceva che probabilmente negli anni 70 i designer avevano molto più coraggio, a prescindere. Sì, ma si lanciavano a fare cose nuove. Cioè all'epoca... Adesso nessuno si sta più rinventando. E chi si rinventa, tipo il prossimo che adesso ne parliamo, viene demonizzato. Vabbè, però aspetta perché... Allora... Io devo dire una cosa che sul rapporto qualità-prezzo sono molto critico. No, esatto. Sì, allora non si può cercare, secondo me, il rapporto qualità-prezzo quando si ha una cassa ingegnerizzata da zero. Allora, stiamo parlando di questo Code 41. Che lo sto tenendo, perché è un orologio particolare. A volte li vendo, gli orologi che mi regalano. Questo non ho intenzione di farlo, almeno per ora. Ok. Allora, qui c'è, diciamo, bisogna un po'... Per me sono le primissime impressioni, perché non l'avevo mai visto dal vivo. È grosso. Allora, come dicevi te, ricorda molto un Panerai come dimensioni e anche... A me ricorda anche un Panerai come disegno. Cioè, secondo me si sono un po' ispirati a Panerai. Sì, ma il radio mi è al 100%, però guarda la tua cassa. Allora, il punto è, vale la pena fare un... Cioè, allora, è vero, il discorso è che non dobbiamo demonizzare chi prova a fare dei disegni nuovi o a provare qualcosa di diverso. Per carità, i miei gusti non sono quelli che possono avere tante altre persone. Ma il punto è, vale la pena fare tutta questa fatica di disegno, per cercare l'originalità, per poi arrivare a dei prezzi forse un po' alti? Non lo so. Avranno fatto il loro... Adesso stanno per lanciare un nuovo modello, tra l'altro. Probabilmente questo non è piaciuto per il quadrante. Troppo semplice. È un po' vuoto il quadrante. Paradossalmente è piaciuto di più quello che montava Miota, che io sinceramente non mi sono sentito di prendere per recensire, perché 800 euro per un Miota 8000 non mi sono sentito. Mattia invece l'ha preso perché sul suo canale era più adatto, più colorato, più particolare. Stanno facendo un modello con movimento svizzero, credo, completamente scheletrato. Allora, devo dire che io ho visto la recensione quella di Mattia e l'avevo anche detto che il quadrante mi sembrava di qualità, diciamo. Cioè, le finiture mi sembravano di qualità. Anche questo mi sembra che abbia delle finiture di qualità. Il punto è sempre quello, cioè, bisogna fare i conti con il rapporto qualità-prezzo. Ma anche con quale tipo di pubblico vuoi andare a cercare. Cioè, allora, di questo a livello di movimento gli si può dire poco, perché io sono un grande estimatore dei calibri. L'estetica, cioè, l'impatto visivo, devo un po' piacere perché, nel senso, io non sono un grande amante di Panerai, ma Panerai ha una schiera di diamanti che... Cioè, tra un po' è un hashtag a parte, Panelisti. Sì, Panelisti è un termine che si usa. Esatto. Qui, appunto, la critica maggiore è che a mio gusto, a me il quadrante non piace. Come... che è un po' la critica comune. Ed è un po' sballato il rapporto qualità-prezzo, secondo me. Però, ecco, è un genere di orologio che o non lo compri perché proprio non ti piace, oppure ti fa impazzire. C'è avevo degli iscritti ai quali è piaciuto tantissimo. No, ma infatti c'è... Per quel genere di persona che magari è disposta a spendere... Perché, attenzione, ci sono altri modi di spendere 800 euro e modi molto peggiori di spendere 800 euro in orologi. Orologi al quarzo, magari Fashion Watch, Aramania, con dei prezzi di destino esorbitanti. Per carità, ho visto, tipo, da una parte stavano vendendo un Louis Vuitton tipo American's Cup, un reseller di Milano lo vendeva, tipo 2-3 mila euro di quarzo, marcato da Vuitton. Sono pazzi furiosi. Ma come i prezzi dei Cartier al quarzo da donna che ultimamente sono volati. Vabbè. Sì, nì. 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 Però questo devo dire che se lo tiri in testa qualcuno fai male. Sì, è un tocque de faire. Comunque qualità della cassa altissima. Secondo me, se l'ho paragolato a Panerai, non solo a livello estetico, ma anche a livello costruttivo. Vabbè, il punto tra virgolette debole è il nome. Secondo me per fare una valutazione a livello costruttivo, cioè per essere sicuri di... di quello che stiamo dicendo, bisognerebbe vedere come sono fatte le parti interne, per esempio, come è fatto l'innesto. Ah, l'ho smontato. Cioè, no, nel senso, vedere tirare fuori il movimento e vedere come è fatto anche l'interno della cassa. L'ho tirato fuori? Hai tirato fuori il movimento? No, ho smontato, ho tirato via il fondello che è affissato con delle brugole. È più strano questo modo di fissare il fondello. È pure estetica. È estetica e basta. Le brugole tengono praticamente il fondello appoggiato sulla guarnizione, ma è una guarnizione molto sottile, è un 50 metri. Ma quindi è solo appoggiato e fissato con queste quattro vite. Quindi, una volta tirato via il fondello, vedi la cassa che è un blocco unico di acciaio. Sì, quello l'avevo visto. Con l'unica lavorazione che ha dentro è un incavo per il 28-24. E basta. Quindi ha... Questo spiega anche il peso. È molto pesante. Ma è un orologio per pochi. Vi garantisco che se vi piace un orologio del genere probabilmente se vi piace tantissimo vi soddisferà perché la qualità c'è, ragazzi. Ma probabilmente è un orologio che riceverà pochi complimenti da chi vi sta intorno perché piace veramente a pochi. Comunque, andando avanti e direi di guardare... Tra l'altro si potrebbe fare tipo questo, questo, questo e questo e ci ricolleghiamo al tuo. Quasi un'evoluzione. Sì, esatto. Sono quasi in continuità. Passando magari anche dal 5 perché il 5 più o meno si lega al 5 Sportsmatic. Questi sono i cani dei vicini. Questi sono i cani dei vicini e io lascio tutto. Non ho intenzione di tagliare questa cosa qua. Allora, passando dal più antico che dovrebbe essere questo qui. Questo qua, allora, vediamo... A livello di fondello vediamo se riesco a vedere il fondello. Questo qua dovrebbe essere un 65. Ok, è più vecchio. Questo è un 65. Infatti il movimento che incassa è un 6619. precedente ad esempio questo qui no, non possiedo un serie 7 però questo qui è ancora questo qui è un 6602 quindi la linea numerica era ancora sul 6 e infatti questo orologio qua è del 73 quindi è abbastanza vicino. Allora, questo è più vecchio. questo qui questo è un 4502 7000 questo è del 69 è del 69 infatti il primo numero è un 9 novembre o dicembre 69 non mi ricordo bellissimo ed è appena successivo a questo comunque parlando proprio a livello parliamo uno step by step Allora, la cosa che mi è piaciuta tantissimo di di questa di questi modelli di Seiko ma in generale di queste linee di Seiko è il il fatto che hanno questo quadrante molto pulito e le sfere Dufin questa è una cosa che secondo me funziona tantissimo a livello di estetica ed è difficile da trovare negli orlogi moderni molto difficile cioè uno dei pochi che ce l'ha è appunto il viso ma è per me gigantesco devo dire che e poi oggettivamente Seiko ha delle rifiniture anche su queste fasce di prezzo secondo me ma se ti metti a fare delle macro di questo qui cioè viene fuori un video questo tra l'altro è molto bello viene fuori un video della Watchfinder va che riflessi ma questo è quello che avevi c'era vinto l'asta l'ho vinto su ebay ho speso un'ottantina di euro cioè dimmi un modo migliore per spendere 80 euro guarda guarda poi come è lavorata la cassa cioè c'ha nel senso piena di transizioni lunetta e meno male che ho trovato la lunetta cioè è difficile trovarli con la lunetta attaccata di solito si stacca questo è il classico disegno che che funziona sempre e se guardi il fondello che purtroppo dato che è una lavorazione molto superficiale si sta leggermente consumando c'è un delfino bellissimo delfino perché è uno sportsmatic e questo voleva intanto iniziare ad improntarsi per il mondo dello sport e se c'è scritto 5 sotto dovrebbe essere l'antenato di quello che poi è diventato il logo dei Seiko 5 e questo qui ne parleremo per breve per poco questo qui è il mio primo Seiko 5 è il simbolo della community il simbolo della community il mio primo orologio meccanico vabbè uno possiamo dire che è l'antenato dell'altro io ce l'ho avuto una versione adesso parliamo di questi due qua che secondo me si equivalgono a livello storico questo è quello che questo una volta era questo cioè più o meno sì come fascia di prezzo sì dicevo ho avuto ora non mi ricordo per bene la referenza ho avuto il Seiko 5 che viene chiamato Baby Sarb ah sì che è praticamente a una cassa non mi ricordo più la referenza l'hai venduto? l'ho regalato a un mio amico e aveva le lancette do fanno sì mia quello lì era bellissimo solo che aveva la lumibrite sulle lancette sì e aveva la sostanza luminescente secondo me è meglio senza sì è vero ha questo infatti sulla versione bianca non era bellissimo io ce l'avevo col quadrante nero e la sfera dei secondi rossa sono contentissimo di questo eh sì ci credo ma è un sacco carino allora poi c'hai questo hai detto allora poi eccolo il Seiko Sabaku questo qui è un altro classico lancette do fern ma ha un carica manuale movimento 6602 movimento bello antico che viene viene portato avanti da Seiko credo negli anni 60 e fino agli anni 70 forse anche 80 ma è molto carino anche questo è partito subito quindi cioè sono orologi sì sì ma questo lo stavo già facendo girare l'ho caricato poco fa comunque c'è quadrante questo ho fatto anche una recensione del Seiko Sabaku andate a vederla perché l'ho praticamente regalato questo orologio la prima volta che lo comprai questo è il secondo lo regalai a Sabaku lo youtuber italiano per per una questione mia personale di come una sorta di ringraziamento lui non poteva sapere quanto fosse grande la mia stima nei suoi confronti ma lui è stato un po' il lancio che mi ha dato l'ispirazione per fare lo youtuber e li devo molto e gli ho regalato proprio questo orologio e poi l'ho ricomprato perché ne desideravo uno l'ho trovato su ebay braccialato il bracciale ora ce l'ho via perché era molto rovinato ma c'è e sono bracciali molto molto tra virgolette deboli che vi sconsiglio di usare comunque c'è quadrante pulito come tutti i bracciali regione soleil la città e dauphine date logo no 5 a me i seiko 5 vintage non mi piacciono perché sono un po' troppo invadenti con il logo questo però solo seiko è vero seiko ha sempre un po' lottato con i logo si è vero quello seiko gran seiko è anche questione di adesso che hanno tolto che c'era che hanno deciso di cambiare logo nel senso di trasformare i seiko gran seiko in semplici gran seiko è esattamente sempre un po' litigato con i logo allora 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 andiamo avanti io direi che intanto tu prendi quei due lì che sono un po' come guardare una macchina del tempo questo king seiko non allora king seiko diciamo che ah si questo fa parte di quella era il punto di giunzione tra seiko e gran seiko diciamola però si era partita come una competizione tra le due fabbriche per raggiungere diciamo gli standard qualitativi allora la premessa è che io appunto ma li sto studiando adesso i seiko quindi quello che so può essere non può essere non è a prova di forum 1881 però Manuel se sei qui ti saluto si ti saluto anch'io mi sono studiato un po' di cose vabbè detto questo questo era il frutto frutto era iniziata questa sorta di competizione tra queste due fabbriche per raggiungere gli standard qualitativi della fascia alta e gli orologi svizzeri soprattutto per quanto riguarda la precisione dei movimenti bellissimo complimenti e ovviamente la sfida alla fine è stata vinta dalla fabbrica che ha prodotto i gran seiko che poi ha avviato la linea gran seiko come linea superiore della fabbrica e kinseiko però ha prodotto questi orologi secondo me molto belli interessanti perché questo è il mio orologiaio che me lo ha revisionato l'ha proprio definito un calibro d'autore perché diciamo che è un carica manuale ad alta frequenza che è una cosa abbastanza tipica poi c'ha lo scatto rapido della data e il fermo macchina per l'epoca incredibile e soprattutto appunto io l'ho visto anche in parte smontato questo calibro bellissimo vero e appunto si vede come i giapponesi che in generale come per raggiungere diciamo il punto A cercano sempre delle strade un po' strane alternative si vedeva anche nelle tattiche di guerra mi dicevano che avevano delle tattiche di guerra tutte loro vabbè e comunque hanno raggiunto queste soluzioni tecniche con cioè hanno raggiunto questi questi traguardi tecnici con delle soluzioni un po' particolari perché anche il sistema di scatto rapido della data è un meccanismo molto particolare a livello tecnico a livello tecnico proprio di come è fatto il pezzo per esempio il blocco dei secondi c'è praticamente un sistema di ruote che vanno sotto il bilanciere e lo bloccano una cosa del genere non un sistema di ruote c'è una specie di ingranaggio di leva insomma è una cosa un po' complicata è un'orologeria diversa è un approccio diverso esatto a me di questo orologio piaceva un sacco io ho scoperto ultimamente di essere un grande amante delle casse un po' particolari questo orologio ha una cassa tipica degli anni 70 secondo me molto particolare che rispetta un po' i canoni stilistici poi è in ottime condizioni non è stato cioè sì non credo sia stato toccato è mai lucidato questo mai lucidato il mio orologio ha ipotizzato che non fosse neanche mai stato revisionato mai stato revisionato mai stato revisionato perché vediamo da qui probabilmente lo vedi se è stato aperto il fondello non solo si vede si vede da come marciava dove l'hai trovato ah sì qualche rigata ce l'ha dov'è che l'hai trovato questo eh questo l'ho trovato tramite il noto spacciatore del gruppo spacciatore in senso buono uno del gruppo di telegram no del gruppo 1881 mi ha messo in contatto no perché no perché c'è la selezione da superare e non ho tempo di studiare no è vero è vero che merda un giorno passerò anche per un altro titolo da aggiungere no mi ha messo in contatto un ragazzo del gruppo con cui sono abbastanza in confidenza Daniele Porroba che saluto lo ringrazio anzi e sì mi ha messo lui in contatto con sapeva che cercava un orologio più o meno di questa tipologia e insomma mi ha messo lui in contatto con il ragazzo che me l'ha venduto e devo dire che sono molto contento tra l'altro lo sto monitorando da una settimana preciso viaggia più un secondo cioè una roba certificato COSC allora l'alta frequenza serve a questo è appena revisionato cioè ti permette di regolarli alla perfezione poi c'aveva questo aveva un problema allora quando l'ho portato all'orologio aveva un problema al giro al gioco sfere nel senso che aveva non mi ricordo come la chaussée mi pare si chiami chaussée molto lenta quindi il mio orologio è praticamente il perno che fa ruotare la lancetta dei minuti e insomma il mio orologio ha dovuto sistemare un po' di pezzi qua e là e adesso in effetti sta funzionando davvero bene sono molto contento e avere un carico manuale ad alta frequenza è una cosa molto particolare ma poi è tra l'altro il mio primo vintage il tuo primo vintage escludendo l'orologio di mio padre che ha iniziato col botto è il tuo primo vintage catturato e ricercato e riparato perché a volte c'è da fare ed è inutile questa è la classica tipologia di orologio vintage c'è di orologio che puoi trovare solo nei vintage perché io cercavo un orologio con questa estetica con questo diametro a maggior ragione mi piaceva la forma della cassa e in effetti orologi così non li fanno più questa è la cosa triste da dire il SARB il SARB diciamo che è idealmente è una concezione è una concezione diversa ma quasi una continuità per quanto riguarda la giunzione sempre tra la fascia entry level di Seiko e la fascia diciamo medio alta di Seiko qui siamo in una fascia di prezzo quando è uscito costava sui 250-300 euro adesso che è fuori produzione si trova sui 400 te lo levo dalle mani perché lo voglio vedere questo qui è un orologio di fatto più o meno che rapportando i prezzi di restino dell'epoca non costava tanto di diversamente rispetto al king esatto tant'è che viene chiamato baby grand seiko questo qui è il baby grand seiko il baby sarb invece è il il Seiko 5 quello che ti che è l'involuzione della specie o l'evoluzione della specie allora io sono stato molto vicino a comprarmi un un sarb non so perché non ci sono mai arrivato alla fine probabilmente perché non so e il disegno non mi convince appieno cioè il disegno della cassa è molto bello ma non è come il disegno di cioè di è molto più classico più anni 60 e quindi però oggettivamente è stato il candidato principale a finire sul mio polso ti dirò hai fatto bene a comprare un vintage perché anche io ho iniziato comprando i seiko ho preso il 5 e poi dopo ho iniziato a comprare i vintage i vintage mi hanno fatto innamorare che poi secondo me il sarber rende molto meglio con il cinturino piuttosto che con il bracciale sì ma l'ho provato in vari modi l'ho provato in vari modi però a dire il vero mi piace molto braccialato è lucente è importante poi è un ottimo bracciale tanti denigrano questo bracciale per la poca regolazione ma vi farò un esempio il ragazzo psq watches che ha aperto un canale da poco ciao pasquale ciao pasquale mi ha dato questa tip incredibile lui ha comprato una clasp cinese da 2 euro su aliexpress con 6 buchi e ha risolto il problema c'è una clasp bella di alta qualità tanto la clasp te la conserva la clasp ti conservi l'originale e quindi senza dover cambiare un bracciale o comprare uno strapcode per 2 euro di soldi e un paio di settimane un mese di spedizione ha risolto il problema certo che è rimasta ancora tanta roba sul tavolo allora allora adesso secondo me possiamo andare spediti possiamo parlare dell'accoppiata Daytona il Daytona ceramica faccio io il Daytona ceramica il Daytona zenith sì perché se ne stavamo parlando prima e poi ti faccio provare a occhi chiusi avrei potuto metterteli in mano a occhi chiusi secondo me non avresti notato chissà quali differenze perché parti senza pregiudizio però credo che tu abbia già maneggiato un po' di questi tu sì sì questi li conosco c'è da dire che il Daytona zenith ha una configurazione troppo io come qualcuno sa non sopporto la configurazione dei contatori dei movimenti rolex sì ragazzi perché vi svegliamo un segreto non so se l'avete notato ma sorpresa i nuovi movimenti rolex di manifattura sul Daytona posizionano i contatori leggermente più in alto delle ore 3 e 9 questo dettaglio ti puh cioè una volta che ne rendi conto lo noti troppo così come quando sui vecchi movimenti valgiù dei carica manuale noti che la posizione dei pulsanti non è perfettamente simmetrica e quando lo vedi non puoi non notarlo più sì c'è quello da ore 4 che è leggermente più vicino perché quel movimento era progettato così comunque io trovo che questo acciaio oro sia molto versatile molto versatile allora c'è da dire che è abbastanza vistoso sì chiaramente immaginate lo bianco se sarebbe stato veramente indossabile tra l'altro c'è una la variante mi sa col quadrante champagne che secondo me è molto bello bello quello lì è super elegante quello lì secondo me è molto bello questo è altrettanto bello è un tipo di orologio che io non sono un grande amante degli acciai oro perché sono un po' ho un po' un problema ideologico nel senso che l'orologio sportivo per me deve essere d'acciaio d'acciaio poi è inevitabile hanno un certo fascino ti faccio vedere lui no infatti quello mi piace hanno un certo fascino però è inevitabile che siano un pochino un bel po' più vistosi dei ricordo che una persona che conosco mi diceva eh ma se io lavorando in banca contatto con il pubblico quando mi vedono che ho l'acciaio e oro pensano che guadagno tantissimo quando ho invece magari un daitone acciaio io non te lo guardo nemmeno comunque a livello qualitativo ci sarebbe un discorso da fare sul calibro anche lì le modifiche che ha fatto zenith sul calibro che poi ha montato le modifiche che ha fatto rolex sul calibro zenith ma sì però è vabbè di base il movimento è la fornita del zenith ed è ininegabile e vabbè passiamo al al gemello al fratellino al gemello diverso al gemello diverso domanda questo non è il vero e proprio big block no questo non è il big block questo non è il big block il big block è il precedente Tudor sono i precedenti avevano una cassa più cicciotta hanno capito come renderla più sottile credo anche per delle leggerissime modifiche del 77-50 ma probabilmente era lo stesso movimento so che i Tudor crono dagli anni credo metà degli anni 80 in poi non si chiamano più big block perché di fatto sono più sottili questo qui è uno degli ultimi questo sarà quindi 97 sì io credo sia dei primi del 2000 ah ok non l'ho ancora guardato perché il seriale deve essere tra le ansie ancora non l'ho controllato comunque è già un quadrante superluminova quindi sicuramente post 98-99 ah ok perché il superluminova ha rimpiazzato il trizio lo sappiamo più o meno nel 97-98 dipende un attimo anche dalle scelte delle aziende sta che forse era dopo eh Omega l'ha cambiato nel 97 esistono degli speedmaster adesso ne parliamo del mio che è un transizionale che praticamente questo qui è del 97 ma esistono delle referenze che finiscono questa qui finisce nel 98 la produzione giù di lì che sono già l'uminola sì no io mi riferivo a Rolex Tudor ah Rolex Tudor adesso sinceramente non mi ricordo non mi ricordo neanch'io sinceramente comunque beh allora questo c'è un grande io adoro il bracciale mi piace stavo per dirti invece che secondo me col bracciale Oyster sarebbe stato meglio eh ma col bracciale Oyster sarebbe troppo un Daytona sì è vero questo gli rende un pochino più di identità è molto personale gli dà più identità ma mi piace molto a livello qualitativo il bracciale è veramente stupendo anche perché questo mi sembra pure un bracciale pieno sì è un bracciale pieno a viti è un ottimo bracciale considerando che i bracciali Rolex quanto sono stati i giubilei a maglia vuota per quanto tempo sono stati agli anni settanta metà anni settanta o inizio ottanta non mi ricordo comunque è un bellissimo orologio io mi piace molto allora secondo me ogni appassionato prima o poi deve avere un 7-7-5-0 ah in generale in generale questo è il mio unico attualmente ne ho un altro nel cassetto che però non tiro fuori per adesso perché è fermo è rotto e devo revisionarlo no no la dignità ce l'ha ma ce la verrà nel momento in cui sarà funzionante ah ok prima o poi ve lo mostrerò probabilmente nel video della collezione lo mostrerò anche da fermo allora comunque il discorso della qualità cioè il punto è che Rolex non è che abbiamo mai fatto alta manifattura alta orologeria no mai qui diciamo la differenza principale può essere o sul controllo qualità dei pezzi e sul calibro oggettivamente e qui la differenza è tutta nel calibro detto questo il cioè il quadrante così è molto bello forse più bello perché questo è un classico reverse panda secondo me più bello personalmente lo trovo più bello no non tanto del panda dei quadranti che poi hanno montato sui Dayton automatici ok più bello dei quadranti standard secondo me esatto cioè nel senso il quadrante panda reverse panda classico è più bello è un bianco quasi perla cioè sì ma anche il nero è un il nero è un classico credo laccato Rolex adesso non so come si definisca la lavorazione del lucido comunque è un orologio che io adoro mettere adesso qualche settimana che non lo indosso perché ho ricevuto nuovi orologi sto indossando lo speed perché ho appena fatto il video lo sto facendo dello speed master e sono tutto preso con lo speed master tra l'altro domani mattina vado a registrare il talk l'episodio 2 domani mattina vogliamo ci vuoi spoilerare con chi o sì vi spoilerò con chi con steve di milano ultra watches ah con grande con steve di milano ultra watches io lo conosco solo dalla dalla sua pagina instagram è una persona molto particolare sarà un modo molto interessante anche per conoscerci di più comunque affrontare una bella chiacchierata lunga comunque siamo quasi alla fine io ho preso il moon watch perché come continui cioè nel senso c'è quasi una continuità tra quando prendi il daytona poi devi andare sull'altro cronografo no? e devo dire che non c'è niente da fare lo speed master è più bello a me piace di più sì e soprattutto non ha niente da invidiare secondo me a un daytona cioè a livello estetico a livello iconico estetico qui stiamo parlando cioè tecnicamente i movimenti sono molto diversi questo è un carica manuale a camme un movimento comunque più anziano frequenze più basse meno preciso però a parte il fatto che secondo me il crono cioè lo speed master è più fedele alla filosofia del cronografo che deve essere appunto ha il nesso laterale carica manuale è un crono classico senza data però anche il daytona è senza data il daytona ma è un il daytona cioè questo qui nasce come un orologio sportivo ma è diventato un'icona e tali è rimasto il daytona invece è l'orologio sportivo il cronografo sportivo infatti cioè allora nel mondo degli orologi lo speed master e lo zenith il primero sono quasi sono pur essendo molto diversi sono accomunati dal fatto che il primero è un calibro che è sempre esistito lo speed master è un modello che è sempre esistito nel senso che è quasi quello che è successo nel mondo delle auto con la 911 nel senso che è stata una per il primero è stata un'evoluzione anche nel disegno nella tipologia di cassa di quadranti lo speed master ha avuto un'evoluzione più lenta sul calibro ma esteticamente lo stesso orologio e infatti è stata un'evoluzione lentissima con piccole migliorie costantemente hanno aggiunto questo hanno modificato quello secondo me il fascino di questo orologio è proprio il fatto che ti collega a un'epoca diversa anche se lo compri nuovo c'è da proprio sì da proprio il feeling di un orologio di un'altra epoca e qui questo però cozza molto con il fatto che stiano salendo tanto 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 di prezzo perché di fatto è un orologio che nuovo costa nuovo quasi costa 4.8 la versione esali è quasi ingiustificato un prezzo così alto perché di fatto si tratta di un movimento storico non progettato di recente di conseguenza non ci sono enormi costi finché resta un movimento basico tra virgolette con le camme cioè bisognerebbe veramente spronarli e metterci dentro questo 3.2.1 per tornare a fare veramente alta orologeria perché secondo me il discorso cosa ha fatto Omega con il 3.2.1 merita un podcast a parte sì merita un podcast a parte per un altro per un altro giorno perché secondo me più che ritornare sul 3.2.1 che va bene come rievocazione storica fare un nuovo movimento fare un nuovo movimento dedicato finalmente mettere mani esatto a un progetto nuovo su un calibro a carica manuale con ruota a colonne che è una cosa che noi appassionati di cronografi un po' chiediamo nonostante è vero che lo smistamento a camme è figlio di una richiesta della NASA perché voleva diciamo mettere mano sui calibri in modo più semplice però non c'è niente da fare l'innesto in quel ruota a colonne ha un fascino diverso per l'appassionato alla fine questi onorologici ormai parlano più agli appassionati credo che la scelta di aver tra virgolette fatto un downgrade un abbassamento delle caratteristiche di rifinitura di questo movimento passando da credo sia stato anche frutto sia di un periodo non troppo fortunato di Omega nel praticamente nel 69 lì era l'inizio della crisi del quarzo forse già le acque non erano particolarmente facili da navigare ma più che altro anche per l'enorme successo che ha avuto il moonwatch dopo l'allunaggio le campagne pubblicitarie quindi le enormi richieste dal pubblico un calibro più facile da produrre a livello industriale proprio sono capitate più cose tutte insieme sì è stato un insieme di cose nulla di questo che abbiamo detto toglie all'861 che rimane un movimento all'1861 la stessa cosa che è un movimento eccezionale robustissimo sta di fatto che per esempio secondo me come filosofia cozza un po' aver messo il quassiale e la certificazione Metas sul 3861 che è il calibro l'evoluzione dell'1861 che per ora c'è solo sulla variante in oro dell'anniversario lo scopriremo quest'anno cozza un po' con il fatto che poi hai questo smistamento molto economico cioè hai un orologio molto raffinato per quanto riguarda l'organo regolatore ma la cronografia è un po' ha una meccanica un po' basica cioè questa cosa io non sono ancora molto d'accordo questa è la gestione di Swatch Group che a volte in queste cose è un po' misteriosa ok andiamo avanti che qui andiamo avanti sono gli ultimi sei pezzi questo qui è questo qui giusto un piccolo accenno non è un orologio da polso diciamo che è più un orologio tra virgolette da tasca è un quarzo crono da gara che ho trovato un Seiko vintage che ho trovato su un mercatino per pochissimi soldi praticamente NOS mai utilizzato con ancora l'etichetta che indica tra virgolette la referenza e il prezzo in dire allora io Seiko io giocavo a Gran Turismo 4 e tipo quando finivi la gara c'era scritto sotto lo sponsor Seiko cronometro ufficiale quindi per me Seiko cronometri cronografi mi tocca un po' le corde dell'infanzia non ho idea di che tipo di movimento abbia non ho idea di che epoca sia credo sia degli anni 80 però se vai a vedere un gran premio te lo devi portare l'ho pagato 5 euro cioè per 5 euro ho visto Seiko in queste condizioni e l'ho preso tra l'altro io sono appassionato di Hoyer come si sa più o meno e in effetti i cronografi da gara i cronografi da scrivania da cruscotto hanno comunque per chi è appassionato come me di Hoyer hanno comunque un certo fascino perché Hoyer è famosa anche per i suoi cronografi da cruscotto diciamo non a caso c'è un forum famoso si chiama On The Dash Allora mancano pochissimi pezzi questo ce l'ha anche un mio amico guardiamo l'Hamilton Kaki Mechanical questo ce l'ha anche un mio amico secondo me ha caricato tutto infatti l'ho sentito secondo me è davvero io non credevo ma è davvero un bellissimo orologio per la tipologia di orologio che è nel senso che secondo me la cassa così tutta satinata è molto bella la carica manuale questo quadrante stile militare poi dimensioni giuste 38 secondo me è proprio la cosa più vicina ai tradizionali orologi militari che si può comprare oggi si ma poi ha un ottimo fondello che finalmente non è a vista poi ha un ottimo calibro calibro ETA questo qua era l'ETA ancora prima quando l'hanno aggiornato al movimento a 80 ore questo ne ha 42 fondello Hamilton ben lavorato si il nuovo c'ha il calibro a 80 ore di riserva di carica questo qui no dovrebbe essere il 2801 un classico ETA l'ho preso prima del cambiamento al Power Matic 80 non è Matic ma è manuale con 80 ore molto carino vetro bombato tutto sabbiato corona logata fondello chiuso carica manuale anche questo per quanto costa 300 euro 350 euro si riesce a portare via a 350 comunque ha una qualità costruttiva secondo me molto alta per la fascia di prezzo Hamilton è quasi imbattibile almeno in Svizzera è quasi imbattibile in Cina si riesce a fare di meglio a questo prezzo in Cina probabilmente trovi un automatico diver con vetro zaffero 500 metri a 400 euro in Cina ma in Svizzera è eccezionale e allora 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 gli ultimi pezzi questo è un grande classico questo qui è un grande classico che purtroppo ha le lancette sbagliate perché è un quadrante trizio e le lancette sono prime di trizio dove devo metterli sono proprio sbagliate non c'era verso che avessi no credo proprio che sui quadranti trizio dovrebbero esserci montate le lancette trizio quindi devo trovargli delle lancette che hanno il trizio e mettercele ma questo è un 36 o un 34 34 34 questo è un 34 mm carica manuale il mio 6694 vetroplastica cassa oyster bello vabbè a me il 34 in effetti sta perfetto per un orologio di questa tipologia è pieno di ragazzi con i polsi esili è il motivo per cui stanno un po' ritornando anche le dimensioni perché se cresce la community crescono gli appassionati e se nella media ci sono tanti ragazzi col polso piccolo e non soltanto il grande pubblico che magari può essere più vario ecco c'è tanta richiesta anche di questo genere di orologi come di quelli grandi per buona pace di mattia di watchmaniac si ma si sta convertendo ciao mattia se sei qua si sta convertendo mattia piano piano agli orologi più piccoli è passato gradualmente ai 40 poi ai 38 però ecco forse non riesce a scendere sotto i 38 comunque i vetroplastica hanno oggettivamente di rolex col fatto che hanno questo scalino di vetro che lo vedi di profilo per colpa delle cilote è fantastico hanno proprio un altro sapore anche questo non c'è niente da fare questo è proprio proprio un orologino interessante che tra l'altro lo sto usando quasi sempre Silvia ultimamente io lo indosso molto poco spesso gli ultimi tre pezzi ragazzi questo qui è il mio unico swatch questo allora ero curiosissimo di vederlo questo non vi ho neanche di come si chiama il movimento questo qui dovrebbe avere un ETA 2824 ma non è un 2824 è una versione completamente impoverita tra virgolette del 2824 quello con lo scappamento di plastica credo e intanto non ha il fermo macchina per farti capire è un movimentino molto semplice però cioè per quello che l'ho pagato è in condizioni originali scatole garanzia 20 euro l'ho preso a 20 euro certo che ce n'è da fare swatch perché l'ho ripreso in mano visto no come sono fatte qui l'attacco al cinturino classica cassa swatch swatch per una generazione di noi è stato proprio il primo orologio di tutti anche io ho iniziato con uno swatch quindi però senti che rumore cioè ti rendi conto che effettivamente è proprio una plasticona però è uno però è uno swatch sono unici swatch ha sono particolari e comunque ha un bel movimentino e per un neofita spendere 20 euro per trovarsi tra le mani questo ci sta secondo me questo in effetti rende giustizia al movimento perché tutto il resto è di plastica vedi che è solo il movimento di metallo quindi la cosa importante è dentro è dentro e la vedi di fatto è un 28-24 ce lo vedi è proprio uguale cioè se prendi il viso date che è molto simile al 28-24 ti rendi conto allora i miei ultimi due che sono due diver questo qui è il mio diver per l'estate il mio samurai che l'ho già usato il mio samurai che l'ho già usato per due ben due estati allora a me esteticamente il samurai piace però me lo vedo malissimo al polso è enorme perché non lo so lo vedo molto non me lo vedo benissimo al polso ecco detto questo è un roggio impegnativo che va indossato solo d'estate quando sei mezzo nudo o con la nutra sub cioè mai in altre situazioni comunque è un orologio che io ho comprato per la sua originalità cioè quando ho scelsi il mio diver potevo prendere o il turtle o il samurai io sono andato stessa scelta sono andato sul turtle io ho scelsi il turtle il samurai perché volevo qualcosa di veramente particolare diverso è una cioè io che sono ossessionato di Seiko tra l'altro ho avuto questo stesso pensiero con il mini turtle che tra l'altro sta arrivando in questi giorni quando Seiko fa una nuova cassa è un evento nel senso che il samurai non è il primo samurai questo però è comunque un orologio molto giovane come linea e il mini turtle dovrebbe essere praticamente il primo con quella cassa e l'originalità di un pezzo che ha molta fortuna e crescerà e continuerà ad avere successo negli anni il fatto di avere uno dei primi a me mi emoziona molto comunque oggettivamente la linea diver di Seiko secondo me è comunque molto bella a prescindere sempre tant'è che nel senso a me sta passando un sacco anche il marine master che è il punto d'arrivo io è da tanto tempo che lo bravo il marine master infatti quello di Jacopo quando ogni volta che glielo vedo quelle due volte mi è capitato di vederglielo al polso non lo prendevo non lo guardavo non lo osservavo comunque devo dire che di questo è fatta molto bene la corona cioè non avevo ancora la corona è molto solida è molto solida è facile da aggrappare ma guarda che è molto compatto è uno degli orologi più robusti che possiedo mi ricorda molto il Pelagos come feeling il peso è quello anche come come tipologia come impatto visivo esattamente anche a me ma poi il modo in cui io e Manuel lo usiamo siamo due facce della stessa medaglia io adoro il diver entry level lui non riesce cioè lui deve comprare scusate Alexa stop scusate ragazzi e qui si va avanti comunque questo qui ma in teoria dobbiamo finire parecchio prima parecchio prima ma allora adesso forse abbiamo un tempo c'è i 30 orologi forse adesso avremo anche tempo di registrare un altro podcast comunque ragazzi il samurai diciamo due facce della stessa medaglia io amo i diver entry level lui non ce la fa cioè lui vuole se ha comprato il Pelagos per usarlo al mare perché vuole l'orologio importante anche in acqua gli piace proprio e di fatto è un altro genere di orologio un'altra costruzione però secondo me il samurai non ha veramente allora io sono uno un po' strano nel senso il mio rapporto diver e acqua perché io quando vado al mare dove vado io al mare dove vado ogni anno non uso mai l'orologio al polso perché è un mio modo per liberarmi di tutte le cose che mi porto durante l'anno ok però quando in altri contesti che non puoi lasciare l'orologio in giro e te lo porti dietro cioè il Tartle non lo usi al mare il Tartle quest'anno non l'ho usato cioè lo uso al mare ma non uso orologi per andare in spiaggia tranne quelle volte che sono vado faccio delle vacanze fuori e allora ho usato sia il Tartle che il Subminer e ceramica anche il Sub eh bravo almeno te lo usi un po' sì sì ci ho fatto una nuotata a mezzanotte fino alla boa con il Sub Ceramica allora mutande e Sub cioè non avevo altro ragazzi l'ultimo orologio e poi ci salutiamo questo qui è il Kinzel Sport un omaggio del Sub quello che mio padre mi regalò l'anno scorso questo qua è infatti questo l'avevo lasciato per ultimo perché mi ricordavo c'era una storia è uno dei suoi primi orologi automatici e lui mi ricordo che lui adorava la linea del Submariner e attualmente possiede un Sea-Dweller eh per l'appunto e all'epoca però non si è mai sentito di comprarlo perché costava troppo lo guardava lo ammirava a un certo punto però vide in vetrina un orologio che somigliava automatico e ha deciso di comprarlo l'ha usato per vent'anni di fatto quindi vedete che la ghiera è tutta bella graffiadina così però è bello c'ha proprio un sapore anche tutto suo sì è un orologio che non uso mai perché il valore affettivo è tutto lì cioè è un orologio molto semplice è un Miota serie 8000 ha la coronavite certo ma è un orologio che non metterei mai in acqua ma di che anno è scusa? è un orologio degli anni 90 e comunque è ancora tutto originale in teoria e a parte il vetro che credo sia stato cambiato perché era completamente scheggiata la lente era illegibile e l'ho fatta mettere a posto da Manuel comunque no è davvero molto carino è un dive è un omaggio ci sono sempre stati gli omaggi e una volta che ho iniziato a maneggiare questo orologio qua ho capito comunque la persona che compra l'omaggio lo compra per un motivo per il fatto che magari si ha l'allugamento c'è l'estensione per la muta è un professional è un dovrebbe essere un c'è scritto sul quadrante la profondità massima questo al momento è coperta dovrebbe essere resistente almeno 200 metri almeno dovrebbe essere un 200 metri figata comunque è un orologio ecco non lo uso praticamente mai però quando lo guardo è sempre una cosa eh gli orologi ereditati dai padri sono sempre come l'SKX che l'SKX me l'ha dato giusto tre giorni però questo è il primo mi hai detto no? questo è il primo che mi ha dato quindi sì 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 un altro mondo ragazzi abbiamo finito la carrellata abbiamo finito del negozio perché sembra quasi un catà già mi sto immaginando quando mi toccherà a me fare il video della recollezione verrà fuori un video di un'ora saranno tutti contenti immagino comunque ragazzi grazie questo qui era il primo podcast di Vristaddiction speriamo che sia andata bene speriamo sia andata bene con Funter questo episodio è disponibile per tutti ho deciso che dal prossimo episodio se siete arrivati fino a qua lo saprete mentre ve lo dico dal prossimo episodio tutti i prossimi podcast saranno esclusiva di tutti i patrons per circa un mese dopodiché andranno disponibili per tutti grazie ragazzi per aver sentito fino a qua grazie spero che l'esperimento vi sia piaciuto ma più che esperimento la serie il primo episodio di una nuova serie vi sia piaciuto e ci si vede ragazzi fatemi sapere grazie ci sentiamo ciao bellissimo adesso devo fare le foto ciao 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 Grazie.